Salve a tutti ragazzi sono MrX e questa è la sesta parte di Wonder Boy 5 in Monster War 3 Praticamente nell'ultima parte dopo aver sconfitto la Sfinge finalmente abbiamo raggiunto il villaggio dei draghi Ovviamente adesso ci riposiamo ragazzi perché eravamo messi piuttosto male con i cuori E di conseguenza ragazzi comincia veramente questa avventura Vi ricordate che vi avevo detto che in questo posto avremo raggiunto la forma minuta Questo succederà dopo aver battuto il prossimo dungeon che non si trova effettivamente qua ma dovremo raggiungerlo tramite questo posto Prima di tutto parliamo con l'antico drago, il drago dei saggi Che appunto ci sta dicendo che noi siamo gli eroi E dovremo appunto raggiungere il mondo del ghiaccio al fine di trovare la old axe E per farlo ci regala questo braccialetto magico che servirà appunto, ve lo dico in primis Per spaccare diciamo la lastra di ghiaccio che blocca il passaggio Pertanto appunto l'apro una piccola parentesi mentre facciamo la strada Qua adesso lo shop è chiuso Allora prima di tutto entriamo qua dentro E seguiamo la strada del castello Perché si trova praticamente lì la lastra di ghiaccio In quei famosi sotterranei del castello dove effettivamente non ero andato Ok apro questa famosa piccola parentesi in merito alla old axe Praticamente ragazzi per chi è fan della saga di Wonder Boy Se vi ricordate la vecchia ascia dove si utilizzavano le asce Ovvero ancora di pietra legate con una corda Semplicissimo Nel primissimo Wonder Boy Perché ragazzi la prima arma utilizzata dall'eroe Tom Tom Ovvero il primissimo Wonder Boy era la old axe Quindi questa old axe è un tributo anche lui al primissimo Wonder Boy Anche se non sembra ragazzi Molti non lo sanno o magari non se ne rendono conto Non è altro che un tributo alla saga originale del proprio il primissimo Wonder Boy ragazzi Perciò vi dico Questo capitolo anche Wonder Boy 6 Monster War 4 Non è da considerare spazzatura Io sto attento bene o male alle cose che capitano nei videogiochi Le trame e tutto Quindi ragazzi c'è un significato logico a tutto Anche nel Wonder Boy 6 Monster War 4 Con Ascia come protagonista Ha tutto Proprio tutto in merito Anche se c'è da dire che è un capitolo innovativo rispetto a questo Comunque Per raggiungere il famoso posto che vi stavo dicendo Dovete scendere nelle segrete del castello Affrontare diciamo Vabbè queste creature che rompono leggermente le scatole Però noi adesso le affrontiamo tutte Senza paura Ed entriamo in questa porta Scendiamo chiaramente Qui Allora prima di tutto Ammazziamo questi serpenti Una volta giunti lì ragazzi C'è un box da aprire Ma io non lo prendo nemmeno Perché perdere sicuramente tempo A star lì a saltare Cercare di prenderlo Vi dico cosa c'è lì dentro Se non ricordo male Presente una magia Ma tanto siamo già pieni noi di magie Se avete bene o male Preso La mia stessa L'avete preso diciamo Dal mio gameplay E tutto Se avete preso esempio E che non mi veniva la parola Dal mio gameplay Saprete sicuramente Sarete anche pieni di energia Per non soltanto vitale Ma anche quella per lanciare incantesimi Comunque detto questo ragazzi Adesso dobbiamo andare avanti Armatevi anche l'altro dente Così almeno Siete più comodi Come volete voi ragazzi Per me va bene Decisamente tutto L'unica cosa Che dobbiamo cercare Di ammazzare Questo simpatico scheletro Qui Così non ci da Intralcio Adesso dobbiamo Praticamente Mantenere Le pietre Oltre Cioè sopra I nostri piedi Diciamo E poi Spaccare questi qua sopra Come sto facendo io Molto bene E poi salire Questo box Possiamo aprirlo C'è dentro un cuore Cabe che ripressiona tutto Mentre in quello sopra Che è difficile da raggiungere Da raggiungere Abbiamo Delle magie Ok Il braccialetto È entrato in funzione E Ha spaccato La lastra di ghiaccio Che ci permette Di entrare In questo nuovo mondo Ovvero Il mondo del ghiaccio Facciamo molta attenzione Ai pinguini Ragazzi Perché rompono Decisamente un po' Le scatole Però Non sono tanto difficili Non è neanche difficile Il boss di questa zona Sono più difficili I suoi scagnozzi Che effettivamente Il boss di questa zona No non sto scherzando Quando vedrete che arriverò Il boss Vi ne accorgerete Della sua Semplicità ragazzi Che direte Cavolo Ma fanno i nemici più piccoli E il boss Lo rendono molto più semplice Ma non si può Io dico Però comunque Indipendentemente da tutto Ragazzi Adesso Proseguiamo Facendo sempre Molta attenzione A questi spettri qua Ghiacciati E al pinguino Che tende a rompere Un pochettino Le scatole Comunque Bando alle ciance Ragazzi Proseguiamo Ricordate che Bisogna fare su Molti soldi Infatti Ci sarà un punto Ragazzi Dove I soldi Saranno aumentati Questo cosa vuol dire Che sono tornato indietro Ho affrontato Questi mostri qua Al fine appunto Di reperire Tanti tanti soldi Comunque ragazzi E' veramente Un gioco bellissimo Questo Che sono Veramente contento Di esporvi Di risporvi Nuovamente Perché diciamocelo Questo gioco L'avevo già caricato Come long play Di tre ore Passa di video Tre ore Passa di video Quindi non era Decisamente Una cosa Eh Ho faticato Ecco Però Ci stava Un bel gameplay Commentato Perciò Sono stato Veramente contento Di avervelo Mostrato E in primis Ragazzi Spero veramente Che vi sia piaciuto Comunque Andiamo avanti Ammazziamo sempre I nemici E fino a che non Arriviamo Proprio al villaggio Degli stregoni Avete capito bene Ragazzi Il villaggio Degli stregoni Il bello Entriamo Entriamo qua Dentro Prima di tutto Avete visto Cosa ci sono Ceramic boot Sarebbero utili Ma costano Troppo E quella Pozione lì Che ripristina Tutto Se non erro Offre 200 Però Vabbè E qua L'unica cosa Che mi interesserebbe È l'armatura La battle spear Se devo essere sincero È molto potente Ragazzi Però io sono più di spada Che di 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 lancia Perciò preferisco Lasciar stare Lì c'è la La locanda Avete visto Che mi sono aumentato I soldi Perché sono tornato Indietro Affrontato Diciamo Ancora i nemici Prendiamo L'armatura Lo scudo Costa 3500 Però adesso Non possiamo prenderlo Però è già tanto Aver preso L'armatura Ragazzi Perché avete visto La night armor È molto Molto Più potente E qua Decisamente Serve Parliamo con La stregona La fattucchiera Come volete Chiamarla E ci sta dicendo Che qua c'è un boss Da affrontare Nel castello di ghiaccio E ci ha dato Presso di noi Shabo Che è questo Spirito qua Con la falce Sembra tipo Una morte nera E ci aiuterà Con la sua falce A colpire i nemici Quando ne ha voglia Giustamente Andiamo avanti Qua dovremo di nuovo Affrontare parecchi nemici Fino ad aggiungere Il castello Diciamo Intanto noi Reperiamo delle monete Fanno sempre bene Mi raccomando Ops Ecco Mi sono Sono crollato Proprio Cerchiamo di salire No Per un pelo Molto bene Eeeh Dai 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 Ce l'abbiamo fatta Ok Prendiamo L'ascensore Avete capito bene L'ascensore Proprio in un castello Di cristallo Molto bene E scendiamo Attenzione qui ragazzi Eeeh Qua è un posto Un po' complesso Prima di tutto Spacchiamo con la stato qua Per far apparire Questo gradino Eeeh Esattamente con il gradino Saliamo sopra Per tirare questa corda Si aprirà un passaggio O meglio Si creerà un ponte Spacchiamo ancora Questa stato qua Al fine A poter creare il passaggio Eeeh Facciamo molta attenzione Alle scimmie Perché in questo posto qua Esistono tantissime scimmie Che tendono a rompere Veramente le scatole Poi Scivolando poi Non è di certo Il massimo Mi raccomando Ok Sono caduto Ammazziamo loro la scimmia Prima che lei ammazzi noi Avete visto Mi sta facendo molto male Saliamo di sopra Eeeh Molto bene E andiamo avanti Buona buona Buonissimo Eeeh Bene 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 Ma accidenti Ma questi qua non vogliono sapere di morire E mi sto anche facendo assai male Mi è rimasto un cuore Ok un cuore e mezzo Vabbè Saliamo di sopra Facendo attenzione Eeeh Eccole qui Altre scimmie Che appaiono E disappaiono Che Scatole Vabbè Lasciamo perdere i soldi Purtroppo Che però è l'unico modo Per avere la vita salva Perché se no qui Mi fanno veramente tribulare Torniamo indietro Mi raccomando Eccolo qui Saliamo di sopra Ragazzi Evitiamo la scimmie Perché se no è veramente Pesante da sopportare Saliamo su questa piattaforma Ghiacciata E andiamo di sopra Molto bene Riprendiamo nuovamente l'ascensore Se non ricordo male Esatto Spettacolare Molto molto bene Eh io prenderei con me Il terremoto Perché è una delle mosse Che veramente Fa molto male ai nemici Ecco qua Benissimo Mi sono già fregato da solo Utilizziamo il terremoto In modo tale da Oh che bello Abbiamo ripristinato tutti i nostri cuori Che questa è stata veramente una fortuna Ok vabbè Utilizziamo ancora il terremoto Abbiamo ricevuto 136 monete Buono buono Molto interessante Uh 565 monete Ottimo dai Siamo stati fortunati Ok adesso Entriamo qua dentro Facendo molta attenzione Al leone che c'è qui nascosto Ecco gli sono andato in faccia Ammazziamolo Uh Perfetto E Prendiamo I pagmi boots Necessari Strumento finale Appunto Per Diventare piccoli Questa porta La utilizzeremo dopo Ragazzi Perché avremo da prendere Due gemme Prima pensiamo a prendere L'altra gemma Che è quella un pochettino Più distante Sì dobbiamo salire qua Giusto giusto Mi sono Facciamo un bel salto Perfetto Molto molto bene Ammazziamo questo leone Ci ha dato una Una parte di energia Quindi potremmo fare Nuovamente un terremoto Ecco adesso dovremo Prendere una bella rincorsa Su Dai salta Perfetto Perfetto Nulla di più semplice Beh Incrementiamo nuovamente I nostri cuori Per prendere Un altro cuore Abbiamo trovato Un altro cuore Quindi abbiamo Siamo quota 9 cuori Mi sembra Ok entriamo prima di tutto In questa porta qua Per prendere la prima gemma E dovremo affrontare Un mini boss Se vogliamo definirlo Un mini boss Che è questo leone gigante Vedete la sua energia Non è tanto difficile Però è assai veloce Diciamo che fortunatamente Il nostro Spirito Shabo ci aiuta A colpirlo Con la sua Falce Possiamo usare Anche un terremoto Ma più di tanto Non è efficace Ragazzi Beh beh Ci lascerà un cuore Molto utile Per affrontare Il boss dopo Perché ne incontreremo Un altro Questa è la prima gemma Quella dorata La gold gem Entrando appunto In questa porta qua Affronteremo Questo secondo mini boss Che è questo orso Panzuto Ne avete visto Anche come corre Per essere un panzone Avete visto come corre Ecco 4576 Molto molto bene E adesso Prendiamo la blue gem Se non ricordo male Aspettate Esatto La blue gem Necessaria appunto Per aprire la porta Che ci porterà Al boss Diciamo Finale Di questo Capitolo Ricaduto Doppiamente caduto Vabbè In compenso Ho preso altre monete Vediamolo da questo Punto di vista Qui Ehi su No 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 cavolo Sono crollato Un'altra volta Vabbè Vabbè Se riesco ad ammazzarlo Bene Altrimenti Dai Muove Ecco Bravo Bene Benissimo Siamo morti No Per un pelo Andiamo avanti Su Questa volta Devo prendere la rincorsa Giusta E saltare Sì Buon Perfetto Allora Anche qui Parte critica Perché si può Scivolare Assai Saliamo di sopra Andare a destra O a sinistra È indifferente Prima possiamo andare A destra Come possiamo andare A sinistra Comunque andiamo A destra E inseriamo Puntiamo in alto E Sion inserisce La blue gem Andiamo avanti Andiamo avanti Avanti Ancora avanti Track Sion inserisce La gold gem E adesso si Creerà una porta Qua davanti a noi Esatto Come potrete ben vedere E affronteremo Questo boss Prima dobbiamo Prendere l'elevatore Giustamente Ed è questo Puppazzo di neve Nella versione The Ice Bomber Nella versione PC Engine Era una specie Di drago di cristallo Decisamente più carino Rispetto a questo E adesso Avviciniamoci Rapidamente Adosso lui Colpiamolo Avete visto che siamo Molto forti Quindi non abbiamo Problemi a sconfiggerlo Ancora pochi colpi Ed è morto Dai che ci siamo Oh sconfitto Quanti soldi Che ci ha lasciato Ma non sono mai Sufficienti E finalmente Abbiamo la Old X Di Tom Tom Del primissimo Wonder Boy Raggiungiamo L'uscita Aspettiamo A parlare Con Diciamo Come si chiama L'antico drago Prima di tutto Prendiamo Il Night Shield Lo scudo Da cavaliere E ovviamente Lo indossiamo anche Per aumentare Il nostro potenziale Difensivo Curiamoci anche Perché non siamo Messi molto bene No anzi Meglio di no Perché costa troppo Lasciamo perdere E andiamo No perché Se no dopo Se facciamo La magia del ritorno Ci ritroviamo qui E non è di certo Il massimo Qua possiamo Prendere i Ceramic Boots 4000 Accidentaccio Però in tal caso Ragazzi Possiamo Prendere Anche la pozione Perché sono 200 monete Quindi sono Holy Water E possiamo Entrare in questa Porta qua Al fine di Rientrare Nel castello Ora ragazzi Possiamo di nuovo Tornare piccoli Vabbè Prima di tutto Dobbiamo tornare Il castello Quindi Riprendiamo Nuovamente La strada Sì Saliamo in superficie Esatto Siamo di nuovo Nel villaggio Dei draghi Che nella versione Engine Piccola curiosità Era la versione Del villaggio Delle api Evitiamo Di andare a parlare Resparmiamo tempo Entriamo qua dentro Ragazzi Usciamo dal villaggio Come accadeva Nel dragon's trap Nel dragon's course Ecco qui ragazzi Shion in versione mini Grazie agli oggetti mini Che abbiamo avuto Giustamente Però Non è il momento Di andare a affrontare Il nuovo dungeon Bensì Vi ho fatto vedere Una cosa Ma forse era meglio Prima curarsi E poi Prendere le sembianze Minute Adesso ve lo spiego Il perché Perché adesso Curandoci Ritorneremo di nuovo Nella versione Adulta Ancora grandi Quindi adesso Ho sbagliato Devo ritornare indietro E riprendere di nuovo Le sembianze Minute Scusatemi Piccolo errore Tecnico Avete visto Quanti cuori Che abbiamo E se dovete Curarvi Mi raccomando Ragazzi Curatevi Nel villaggio Dei draghi Che bene o male Costa 30 monete Invece che Nel villaggio Lì dei maghi Che costa 50 Vabbè Cifre enormi Che abbiamo 3000 passa di monete 20 o 50 Non cambia nulla Però ragazzi Cavolo Se si può risparmiare Si deve risparmiare Ok Adesso andiamo a sinistra Ragazzi Andiamo decisamente a sinistra Facendo molta attenzione Sempre a questi troll Che ci lanciano le frecce Avete visto anche La capacità combattiva La potenza d'attacco È diminuita In questa versione qui Vi consiglio ragazzi Di fare molta molta attenzione A questi nemici Perché farvi colpire Equivale a perdere a mezzo cuore Se non ricordo male Quindi non conviene Bisogna fare sempre Molta moltissima attenzione Specialmente Proprio in punti Come questi È detto anche questo Ragazzi Mi raccomando Muoviamoci E non avete capito Dove devo andare Giusto Ve lo rispiego Forse non ve l'avevo neanche detto Non mi ricordo È allora Praticamente dobbiamo andare Di nuovo Nel villaggio De Degli uomini piccoli Perché c'è un punto Dove dovremmo passare Una piccola galleria E nel Di nuovo Nella piramide Della sfinge Ovviamente Prima ci capiterà La piramide Della sfinge Oppure posso andare Di nuovo Nel villaggio Ecco qua Siamo già di nuovo Nella piramide Della sfinge Nulla di più Comodo E semplice Avete visto Praticamente Ripetendo appunto Questa strada qua Possiamo entrare Qua sotto Avete visto No Qua non devo andare Aiuto Mi sono fregato Schiacciamo il pulsante Schiacciamolo bene E andiamo qua Di sotto Avete visto che c'è Un piccolo passaggio segreto Che per raggiungerlo Adesso vedrete Come bisogna fare Oh cavolo Temo di essermi dimenticato Di una cosa Di una cosa molto importante Qua ci sono tanti box Se non erro Là dentro Erano presenti Diciamo delle magie Comunque in questi box Qua ragazzi Sono presenti Tante ma tante Di quelle monete Che sono veramente Incredibili Che sono veramente incredibili Poi avrò dimenticato Un piccolo forziere Ragazzi Ho dimenticato Un piccolo forziere Che adesso Andrò a prendere Cioè Nella prossima parte Prima di affrontare Diciamo Il dungeon Di per sé Andrò a recuperare Questo forziere Che mi sono dimenticato Stupidamente Mi sono dimenticato E ve ne chiedo scusa Ma c'è un modo Per andare a prendere Quello forziere Vi chiedo veramente Proprio scusa Lo recupererò Non preoccupatevi Perché se non ricordo male Era presente Della magia lì O se è presente Della magia Adesso non mi ricordo Devo farmi enti locale Se nella prossima parte Non andrò a prenderlo Vuol dire che non è nulla Di importante Comunque adesso Scendiamo di qua ragazzi Al fine di prendere Anche questo forziere Avete visto Il charmstone Questo charmstorm Aumenta il carisma Del personaggio E quindi Determinati negozi Che possono Contenere in vendita Tante armi pazzesche Si apriranno E poi dopo Vedrete giustamente Ce n'è ancora uno Da aprire Che è questo 12.810 monete Ragazzi Nulla di più Bell Più simpatico Utilizziamo La magia del ritorno Al fine appunto Di andare adesso Di nuovo Nel villaggio Degli uomini minuti Perché negli uomini minuti Piccoli C'è un altro Piccolo passaggio Che era in quel Secondo dungeon Che avremmo affrontato In uno dei primi video E lì Chiaramente Se non erro Era presente Un altro cuore Che dovremmo Recuperare Per forza Perché Possiamo anche Farne a meno Ma se dopo Affronteremo Dei boss Estremamente Cattivi Come il boss Finale Ragazzi Che ci sarà Veramente da piangere Per la difficoltà Immensa Che presenta In tal caso Adesso Vabbè Prendiamo come sicurezza L'omino piccolo Che magari Possibile trovare Qualche tesoro Non si sa mai Entriamo nuovamente Nel secondo dungeon Avete visto Attenzione agli spettri Evitiamoli Se possiamo No qua Non devo aprire nulla Entriamo comunque Per vedere cosa c'è Se c'è qualcosa di nascosto Cioè nel senso Che il nostro amico Apre Scava e tutto Scendiamo giù E andiamo a sinistra Apriamo la porta Che cosa c'è qua dentro Un altro cuore Ragazzi Non possiamo utilizzare La magia del ritorno Perché l'abbiamo già Utilizzata in precedenza Quindi dovremo Attaccarci al tram E andare avanti E cercare un'uscita E cercare un'uscita Ok adesso che possiamo anche tornare indietro E tornare effettivamente di nuovo al villaggio dei draghi Ovviamente adesso dovrò ripristinare nuovamente la mia energia Perché non posso presentarmi con due cuori in difetto Dovrò quindi di nuovo ritornare piccolo Insomma è un po' una menata questo pezzo qui Però ragazzi è decisamente molto importante Poi nel prossimo video verificherò se andare a prendere anche l'altro box Perché non mi ricordo se conteneva un altro cuore O conteneva effettivamente un altro... delle altre magie Adesso devo cercare di fare mente locale perché non mi ricordo E al massimo lo citerò nel prossimo video che farò Ok ci siamo curati Vabbè tanto siamo sulla strada per andare nella casetta dove rimpiccioliamo Quindi vabbè non abbiamo fatto tanto danno e non abbiamo perso Ah prima di tutto grazie al carisma possiamo aprire la porta di questo negozio Io ho la Flame Armor 10.000 monete ragazzi io vabbè la compro perché è importante La Flame Shield 8.000 cavolo se costa però ho preso la Flame Armor che protegge diciamo dal fuoco Quindi è decisamente molto molto importante Grazie alla Charm Stone Entriamo nuovamente qua dentro E torniamo di nuovo piccoli Il nuovo dungeon si trova sulla destra questa volta Proseguiamo quindi a destra e usciamo ovviamente Proseguiamo a destra per trovare una piccola porta Perfetto ragazzi la parte si è conclusa vi ringrazio per aver avuto la pazienza di seguire Grazie a tutti ci sentiamo nel prossimo video Ciao a tutti